e ciao a tutti ragazzi bentornati da un gamer come voi oggi siamo sulle scr di ultimate team andremo a prendere showdown kulusevski ragazzi insieme otteniamo dejan kulusevski showdown dalla partita della premier league tra tottenham e celsi poi ragazzi nel prossimo episodio prenderemo anche mudrick michaelo mudrick del celsi allora vediamo un attimo kulusevski allora mosse abilità e piede debole 4 4 piede preferito sinistro andiamo a vedere i dettagli giocatore può fare anche l'esterno destro oltre all'attaccante destro questi sono i dettagli attributo velocità 87 tiro 82 passaggio 84 dribbling 87 difesa 60 fisico un po bassino 79 tre stili di gioco allora non abbiamo nessuno stile di gioco plus ma abbiamo segnare abbiamo talento naturale e inesauribile allora io ho già preparato l'scr ragazzi ho trovato un altro osyman che ho nel negozio attualmente attualmente allora mettiamo anche casemiro che davvero non lo utilizziamo ragazzi sono tutti non scambiabili abbiamo coche abbiamo stones tripier rabiot kadioglu il giocatore della settimana ragazzi tot ho dovuto prendere un 86 l'unico scambiabile ragazzi è la rapino presa intorno ragazzi ve lo dico subito 23.750 crediti quindi diciamo che l'unica carta comprata quindi dejan ci costa 23.750 crediti c'è rice c'è casemiro c'è zalazar che non lo utilizziamo la maise non la utilizziamo e osyman che ce l'abbiamo doppione ragazzi andiamo a prenderci allora dejan kuluzeski ecco completato dejan kuluzeski ci sarà solo per una settimana ragazzi questa scr tottenham ed eccolo qui kuluzeski anche walk out anche se non 85 bellissima anche tra l'altro l'animazione dejan kuluzeski e lo andiamo a provare ragazzi facciamo una piccola recensione allora ottimo ripegliamo anche osyman ed ecco kuluzeski che lo proviamo subito ragazzi nella prossima puntata proviamo a prendere anche mudrick mancano solo cinque giorni dovrei riuscire in tempo a fare sia episodio che caricarvelo in tempo ragazzi allora il momento questa è la formazione ho preso anche marchigno sagato 19.750 crediti un buon difensore ragazzi 78 di velocità 89 di difesa e 80 di fisico difensore centrale possibilità più di tre tre 183 comunque un buon giocatore poi abbiamo gordon che stiamo facendo evolvere ragazzi molto molto veloce 93 e anche uno stile di gioco rapido era un 76 può arrivare a diventare un 85 faccio vedere 86 85 adesso vi faccio vedere 85 siamo verso l'81 dove imparerà anche lo stile di gioco tiro di precisione e trivela se riusciamo a completare anche il terzo livello di sfida vabbè malassia non riusciamo a completare purtroppo in tempo l'ultima sfida arriverebbe a 82 e carer che va a 84 questo mi interessa molto ragazzi come difensore centrale lo potete acquistare intorno ai 3000 ragazzi secondo me e da un 78 che 76 era quello potete portare un 84 è un buonissimo difensore centrale della premier io ho una formazione principalmente premier come avete visto quindi ho voluto prendere anche dejan kuruzeski che adesso proviamo abbiamo anche di ab e ora facciamo un confronto mandiamo via un nunez allora di ab è più valordo in tutto tranne che nella velocità allora kuruzeski facciamo così mettiamo kuruzeski a destra allora mettiamo lui lasciamo holand qua davanti ragazzi che ho comprato lo stile di gioco passo veloce stile di gioco plus acrobata e forte di testa questi sono gli attributi ragazzi è un gran giocatore pagato 173 mila credit ragazzi allora lasciamo lui e mettiamo marchinos al posto di ruben di asch così abbiamo 33 l'intesa e andiamo a giocare una squad battles così proviamo anche kuruzeski che direi di mettere vediamo le sue statistiche 87 82 84 87 60 79 vediamo con gli stili intesa allora velocità e passaggio andrebbe aumentare mettiamo velocità e passaggio ragazzi catalizzatore e proviamo allora dejan kuruzeski ragazzi squad battles contro questa squadra ragazzi non è affatto male cioè andiamo a giocare questa è la squadra carerly difensore centrale il culo da provare noi maglia de los muertos visto che è appena passato halloween e gli avversari maglietta bianca ennesimo appuntamento con il gioco che fa battere il cuore a milioni di tifosi in tutto il mondo come sempre in diretta qui sulla traguazze questa è la squadra avversaria ragazzi squad battles direi niente in maniera ragazzi allora difficoltà esperto proviamo allora kulu eccolo qui kulu allora il controllo palla è buono ragazzi vediamo piacere in aria tiro parato da pop allora il tiro molto molto debole ecco in grafica l'unici di partenza dei foxes anche se eravamo abbastanza defilati tirato piano è un buon giocatore ragazzi medison bella palla per kulu rientra kulu finita tiro 1 a 0 il primo gol di kulu zewski è un buon giocatore ragazzi numero 10 dejan kulu zewski eccolo il replay del gol e c'è da sottolineare la palla filtrante con cui ha liberato il compagno il tiro l'ha messa dentro da pochi passi era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì che finta ragazzi e palla all'angolino 1 a 0 gol di dejan kulu zewski facciamo giocare molto kulu è un buonissimo giocatore ragazzi grande palla per james dentro l'aria tiro 2 a 0 gol e assist per dejan kulu zewski per ora il mio voto è 9 ragazzi per il giocatore con stile stile intesa catalizzatore ragazzi è veramente spaziale allora la va a battere proprio kulu allora non è un esperto di punizioni andiamo a battere crossando ragazzi ci proviamo buon cross comunque bernardo la parata di pop non è nulla di incredibile comunque per questo il mio voto è 9 non è un giocatore incredibile madison buon filtrante tra 0 e sono due assist e un gol per kulu zewski bello 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 ragazzi bernardo jeffigno holland bella palla per kulu zewski proviamo qualche numero vediamo com'è allora buonissimo ragazzi allora devo dire che kulu zewski è veramente forte ragazzi non è un fenomeno però ragazzi vi consiglio di prenderlo se avete una rosa premier league è veramente forte ragazzi 4 a 0 e comunque stiamo giocando a difficoltà esperta contro una buona formazione ragazzi ecco holland a fine primo tempo vediamo se fa gol anche lui e siamo sì 5 a 0 ragazzi anche holland fenomenale 5 a 0 fine primo tempo ragazzi andiamo al secondo tempo per ora kulu zewski top andiamo a vedere un attimo le prestazioni allora kulu zewski al momento 10 con due gol e due assist holland 1 e 1 madison 1 e 2 gran gran prova e gol di james secondo tempo per ora kulu zewski ragazzi mi sta piacendo tanto mi sa che sarà titolare lì a destra voglio provare anche questo mudrick a questo punto prossimo episodio ragazzi prendiamo mudrick bella palla per culo va via bello ragazzi quasi il terzo gol di kulu zewski allora vediamo qualche numero da fuori il tiro a giro la paratona di pop no ma ragazzi è un buon giocatore per ora il mio voto è 9 ragazzi vediamo se sbaglia qualcosa di semplice eh no no buono buono buon giocatore ragazzi regola l'esordio e due assist se non sbaglio si gira molto bene rapido e il tiro è anche abbastanza preciso ragazzi non potentissimo ma preciso è finita qua ragazzi per me assolutamente 9 ragazzi kulu zewski a questa partita 10 che ha fatto comunque 3 gol ragazzi è un buon giocatore assolutamente da prendere nella SCR ragazzi è anche abbastanza semplice se avete anche i basi squadra tanto qua abbiamo vinto difficoltà esperto 1265 punti siamo in Elite 2 tanto vi faccio vedere mancano 9 partite e sono in Elite 2 al momento ragazzi allora ragazzi secondo me andiamo un attimo sul giocatore dovete sicuramente prenderlo e dovete mettere lo stile intesa catalizzatore ragazzi perché velocità e passaggio diventa veramente un buon attaccante destro veloce e con un buon passaggio un buon tiri un buon dribbling l'unica cosa che mi spaventa un po' è quel fisico 79 ma se aumentate o il tiro e il passaggio ragazzi diventa veramente una carta molto equilibrata come potete vedere è un buon giocatore poi tra l'altro ha precisione punizioni e rigori così così ragazzi però per il resto è veramente una carta molto molto interessante l'avete vista all'opera fatemi sapere se l'avete presa ragazzi tramite l'SCR se vi sono stato utile se è un giocatore che voi se l'avete preso e utilizzato vi è piaciuto oppure no vi ringrazio vi saluto ragazzi vi chiedo sempre di lasciare un like un commento ho visto che ci sono diverse persone ragazzi praticamente tutti non iscritti al canale e quindi vi chiedo di iscrivervi ragazzi di seguirmi e vi posso portare tantissimi contenuti fatemi sapere anche tramite un commento quale video posso portare su FC24 ragazzi tutorial sfida SCR e la scalata di Division Rivals qualsiasi cosa ragazzi io ci sono ci vediamo nel prossimo episodio ciao ragazzi è stato un piacere come sempre ciao